Ricollegandomi a quello detto prima, l'autostima del gruppo va sempre a migliorare perché poi i risultati fanno questo, le prestazioni dei singoli fanno questo, al di là che sia proprio Italia che sia campionato e quindi credo che ognuno stia dando quell'apporto a livello di autostima che poi dopo fa il gruppo e quindi su questo sono segnali positivi sull'autostima del gruppo. Per quanto riguarda Frigerio, come ho detto sempre fino adesso è un percorso di crescita a livello di fisico, a livello di condizione, poi c'è anche un discorso societario, un discorso contrattuale, quindi per quanto mi riguarda l'aspetto fisico potrebbe essere a disposizione, poi la gestione sicuramente passa dalla società sotto questo aspetto, quindi non è più un aspetto tecnico mio di gestione. La società sa benissimo che deve fare, i ragazzi sanno benissimo entrambi cosa devono fare, poi non aspetta a me questo discorso. Potrebbe essere convocato? Sì, sì, il giario potrebbe essere convocato da un momento all'altro, però ripeto, la gestione ora passa dall'aspetto societario, non più tecnico. Grazie. Grazie.